Ragazzi, prima di iniziare con il video, se vi interessano magliette di calcio a prezzi bassissimi, andate sulla mia pagina Instagram e con il codice doppio passo avrete il 10% di sconto su tutte le magliette italiane, estere, kit, completi, tute, felpe, qualsiasi cosa che riguardi il calcio. Sulla mia pagina Instagram trovate la pagina dove acquistare tutte queste magliette e mi raccomando, con il codice doppio passo avete il 10% di sconto sul primo ordine. Li aspettiamo in tanti. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di doppio passo. Oggi, proprio in questo momento, circa un'oretta fa, sono usciti i gironi della nuova Champions League. Champions League che quest'anno cambia completamente formato, infatti viene completamente abbandonata la fase a gironi e si passa ad un nuovo formato con una classifica unica. Per scoprire come sarà questa Champions League non ci resta che attendere il suo inizio e vederla. Voi che impressione avete su questa Champions? A me da una parte sembra interessante, da una parte ho paura che ci siano un po' troppe partite, visto che ogni squadra farà 8 partite nella fase iniziale, poi ci saranno i sedicesimi, ovviamente, poi si continuerà con gli ottavi, quartieri finale, semifinale e finale. Quindi, le squadre che vanno dalla prima all'ottava squadra andranno direttamente agli ottavi, dall'ottava alla 24 se andranno a fare i sedicesimi e quelle che faranno dalla 24esima a 36esima posizione verranno direttamente eliminate dalla Champions League. Quindi non ci sono più le retrocessioni in Europa League, questa cosa la trovo una cosa intelligente, perché finalmente si scindono Europa League e Champions League. Per me, le squadre che si qualificano alla Champions League hanno diritto a giocare solo la Champions League e le squadre che si qualificano in Europa League hanno diritto a giocare solo l'Europa League. Non è giusto, e non è mai stato giusto dal mio punto di vista, che in Europa League vadano a finire anche le squadre di Champions, perché in questo modo si falsa la competizione. Quindi per questa cosa sicuramente un passino avanti, a molte persone questa idea non piace, a me questa idea piace. Diciamo che il nuovo formato della Champions, tutto sommato, mi intriga molto, quello che mi lascia qualche dubbio è l'elevato numero di partite che si andranno a giocare. Andiamo ad analizzare però un po' come è andata alle nostre italiane. italiane che quest'anno in Champions sono ben cinque. Ci sono i campioni d'Italia in carica dell'Inter, c'è la Juventus di Tiago Motta, c'è il Milan, l'Atalanta e il Bologna. Innanzitutto iniziamo subito con l'Inter. Inter alla quale è andata forse abbastanza malino, perché affronterà in trasferta il Manchester City, il Bayer Leverkusen, che sono sicuramente due squadre molto forti, per poi terminare con Young Boys e Spartapraga, che teoricamente sono squadre dove l'Inter deve fare sei punti in due partite. E in casa affronterà il Lipsia, che è una squadra molto insidiosa, l'Arsenal, che è sicuramente un'ottima squadra, la Stella Rossa e il Monaco. Quindi all'Inter forse poteva andare meglio. Sarà difficile qualificarsi tra le prime otto, ma l'Inter di Inzaghi ha le carte in regola per qualificarsi tra le prime otto, anche se io penso che indicativamente per qualificarsi tra le prime otto ci sia bisogno di fare almeno 18-19 punti. Quindi da scoprire, da vedere, magari sto dicendo un'eresia, magari con 16 punti ci si qualificherà tra le prime otto. Io non penso, io penso che almeno 17-18 punti per entrare tra le prime otto servano. E fare 17-18 punti, considerando che l'Inter deve fare per forza, quindi 3 punti con Spartapraga, Monaco, Young Boys e Stella Rossa. E sarebbero 12 punti e poi dovrebbe vincere almeno due partite tra City, Lips, Arsenal e Leverkusen. Non impossibile, ma certo abbastanza comunque complicato per l'Inter di Inzaghi, che poteva avere un sorteggio anche migliore. Sorteggio migliore che ha avuto forse il Milan? Non lo so, perché il Milan affronterà Real Madrid e Liverpool, che sono quindi le due big che è andato ad affrontare il Milan, oltre al Bayern Leverkusen e poi, diciamo, 5 squadre contro le quali il Milan dovrebbe cercare di portare a casa il punteggio pieno, che sono il Club Brugge, la Stella Rossa, la Dinamo Zacapri, il Girona e il Bratislavia. Secondo me al Milan è andata leggermente meglio dell'Inter, però ovviamente in questa Champions ogni squadra qualche big match ce l'ha. in queste prime 8 partite. Tutte le squadre hanno big match, infatti se andiamo a vedere solamente alcuni dei big match che ci saranno in questa prima fase, come Paris Saint-Germain City, il Paris Saint-Germain che affronterà sia il City che il Bayern Monaco, affronterà anche l'Atletico Madrid e l'Arsenal. Mamma mia, forse al Paris Saint-Germain la squadra qui è andato peggio, ma ci sono tante partite di livello come Liverpool-Real Madrid, Liverpool-Leverkusen, Barcellona-Bayern, Atletico-Leverkusen. Quindi sicuramente non ci sono per nessuna squadra 8 partite facili. Andiamo avanti con la Juventus. Juventus che è delle italiane e quella che forse ha ottenuto il sorteggio migliore. Andrà a affrontare come big, vera e propria big solamente il Manchester City, però ha tutte partite difficilotte come ad esempio quella contro l'Ipsia, quella contro il Benfica e anche Stoccarda e Aston Villa non sono squadre facili. Però la Juventus per me tra le italiane è quella che ha più possibilità di arrivare tra le prime 8, anche considerando a livello di punti. Visto che le squadre oltre queste che andrà a affrontare sono anche il Club Bruges, il PSV e il Lille. Non dico che la Juventus deve vincere tutte queste partite, ma per me almeno contro Lille, PSV, Bruges, Benfica, anche Stoccarda, visto che gioca a Torino, può portarsi a casa il punteggio pieno. In casa riuscire a strappare un punticino contro il Manchester City sarebbe perfetto per la Juventus, che poi si andrebbe a giocare la qualificazione tra le prime 8 nelle partite con l'Ipsia e con l'Aston Villa. Per me la Juve ha le carte in regola per qualificarsi tra le prime 8 in questa fase iniziale. All'Atalanta è andata anche, forse Atalanta e Inter sono quelle che se la sono vista un po' peggio, anche se adesso rivedendo, l'Atalanta affronterà Barcellona, con cui per me se la gioca tranquillamente, Real Madrid e Arsenal, che sono due partite molto difficili, però l'Atalanta ha il vantaggio di giocarle entrambe in casa, e poi cinque partite che l'Atalanta, vista l'anno scorso in Europa League, per me può tranquillamente vincere, che sono quelle contro Shakhtar, Celtic, Jagdboys, Strungrads e Stoccarda fuori casa è difficile, però un punto l'Atalanta può farlo tranquillamente. Quindi anche l'Atalanta per me ha molte chance di fare un buon posizionamento, di posizionarsi in una buona parte di classifica. L'ultima squadra italiana delle cinque che parteciperanno alla nuova Champions League è il Bologna. Com'è andata il Bologna? Secondo me è tutto sommato non male. Tra le due big che il Bologna affronterà ci sono il Borussia Dortmund e il Liverpool. Borussia Dortmund che tra le big forse è la più scarsa, anche se l'anno scorso ha comunque fatto una finale di Champions. Il Liverpool ovviamente ad Anfield sarà una partita difficilissima per il Bologna. Poi ci sono Shakhtar, Benfica, Lille, Sporting, Monaco e Aston Villa. Tutte partite difficili. Il Bologna per me quest'anno non è il Bologna dell'anno scorso. Non penso che il Bologna farà una buona Champions, sarei contento di ricredermi, ma la vedo difficile. Il Bologna purtroppo per me potrebbe anche finire fuori dai sedicesimi e quindi classificarsi tra la ventiquattresima e la trentaseiesima posizione. Questi sono i sorteggi per la prima fase delle nostre squadre italiane. Secondo voi, a chi è andata meglio e a chi è andata peggio, io la metto lì. Per me in classifica, se dovessi farvi un ordine, vi metterei meglio di tutte alla Juventus. Seconda forse l'Atalanta, perché prende Barcellona, Real Madrid e Arsenal, ma poi ha 5 partite abbordabili alla portata. Al terzo posto mettere il Milan, al quarto posto l'Inter, al quinto posto il Bologna, non tanto per la difficoltà del calendario, ma proprio per la forza del Bologna. Ad esempio, non vedo il Bologna superiore allo Sporting Lisbona, non vedo il Bologna superiore all'Aston Villa, non vedo il Bologna superiore a chi prende anche il Benfica. Per il Bologna saranno comunque a prescindere tutte partite difficili. Quindi le avversarie non sono sicuramente tra le più difficoltose che potevi incontrare, ma è la caratura del Bologna a mettere in dubbio le possibilità per me del Bologna di passare, appunto, anche di arrivare ai sedicesimi. Chi sono le favorite per me di questa Champions League? Ovviamente sono sempre le solite, ragazzi, è utile girarci intorno. Il Real Madrid quest'anno con Bappé si è rinforzato tantissimo. Occhio alle nostre italiane, per me tre squadre che potrebbero fare bene sono la Juventus, l'Inter e l'Atalanta. Anche l'Atalanta potrebbe fare bene in questa Champions. Il Bayern Monaco, a me sincero, in Germania non ci sono squadre che mi fanno impazzire quest'anno. Per la Premier ci sono sempre, ovviamente, il Manchester City e il Liverpool. Forse lo vedo leggermente avanti all'Arsenal, nonostante io penso che l'Arsenal in questo momento sia più forte, ma credo che l'Arsenal si voglia concentrare di più sul campionato che sulla Champions. Mentre il Liverpool è una squadra che la Champions non l'ha mai snobbata e non la snobberà mai. Il Barcellona non mi intriga tanto, mi intriga molto di più l'Atletico Madrid, che quest'anno si è rinforzata tantissimo. Ha fatto un mercato, secondo me, perfetto. E ha fatto dei colpi pazzeschi come quelli per Julian Alvarez, dove ha speso quasi 100 milioni di euro. Quello di Gallagher ha preso le Normandi in difesa. Secondo me l'Atletico Madrid quest'anno potrebbe fare veramente molto, molto, molto bene. Non dico che può vincere la Champions, ma potrebbe arrivare molto in fondo. Ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate sia della nuova Champions che dei giro delle italiane. Chi sono per voi le favorite? Chi passerà? Se passeranno le italiane? Quali passeranno? Mi raccomando, lasciatemi un bel commento. Tanto rispondo a tutti e leggo tutti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.